Allora in Italia esiste da sempre un grande fenomeno artistico che è quello dei cori polifonici non parlo di quelli, insomma dei professionisti, parliamo tipo Cappella Sistine ma anche dei cori ammatoriali, ce ne sono tantissimi in Italia c'è gente che ha un mestiere, che lavora in banca, che fa l'idraulico, il dirigente, che ha un negozio e che poi si riunisce insieme ad altre persone per cantare insieme ecco, noi abbiamo voluto rendere umaggio a questi cori polifonici una bellissima tradizione che abbiamo, dicevo in Italia abbiamo un coro polifonico che arriva da Mussomeli, Caltanissetta, giusto? Dalla bellissima provincia di Caltanissetta questo coro diretto dal maestro Vincenzo Barcellona a Domenica Inn P 1990 Dalla bellissima din OP Dalla bellissima Dalla bellissima Dalla bellissima Dalla bellissima Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.